E' il ponte di Albiano solo pochi mesi fa, una fila ininterrotta di macchine e autotreni. Oggi il ponte crollato è come un immenso gioco di carte sparse nel greto del Magra. Se non ci fosse stato il lockdown, il bilancio del disastro di questa mattina avrebbe potuto essere molto più pesante dei due feriti, in modo non grave. Un crollo che non ha però sorpreso chi vive in zona. Questo è un crollo annunciato e avevamo timore sinceramente che succedesse e purtroppo è successo. Molte le prese di posizione politiche. Per la Lega l'onorevole Viviani, la senatrice Pucciarelli e l'onorevole Edoardo Rixi, responsabile di infrastrutture per il suo partito. Ha ribadito l'assoluta necessità di interventi infrastrutturali, appena terminata l'emergenza Covid, sbloccando miliardi di euro fermi per manutenzioni in Anas e altri gestori. Raffaella Paita di Italia Viva ha ricordato che tutto era pronto cinque anni fa per una nuova bretella che avrebbe sostituito il ponte, cancellata però dalla giunta regionale del presidente Toti. Poi i sindacati che hanno ribadito la necessità di un serio monitoraggio di tutte le infrastrutture. Probabile da parte del Ministero dei Trasporti la nomina di un commissario per una rapida ricostruzione, mentre escluso il montaggio di un ponte Bailei provvisorio, restano le preoccupazioni per le ricadute economiche del crollo. Sono anni che Santo Stefano, tante amministrazioni che si sono succedute, non ultima la mia, che chiediamo che questo problema venga risolto, il problema di collegamento con Santo Stefano, con un bypass. Intanto restano i disagi, oltre a quelli viari nella zona fino al tardo pomeriggio, non erano ancora tornati gas e acqua, le cui condotte passavano sotto all'impalcato del ponte. E proprio nella distribuzione dell'acqua è stato segnalato un particolare inquietante. Già alle 8, due ore prima del crollo in diverse abitazioni della zona, i rubinetti erano a secco. Forse il primo segnale del cedimento del ponte. Forse il primo segnale del ponte.